La Gelbison ha deciso di fare sul serio dopo dieci giornate e guida in tutta solitudine il girone meridionale della quarta serie. Ha già quattro lunghezze di vantaggio sulla prima inseguitrice, la Mezzia, e addirittura cinque sulla Cavese, ovvero le principali antagoniste e indicate da tutti come le principali candidate al salto in Serie C. Un primato che rende orgogliosi tutti i tifosi che stanno vivendo questa favola con grande entusiasmo e partecipazione e lo stesso timoniere dei rosso-blu vallesi Gianluca Esposito appare soddisfatto di quanto la squadra sta facendo e non nasconde le proprie intenzioni. Questa classifica dice che la squadra è pronta per stare seduta al tavolo delle pretendenti per il grande salto e ci saremo fino alla fine, poi sarà il campo a determinare chi staccherà il pass. Viviamo questa fase con grande serenità. Ora, dice Esposito, andiamo avanti per la nostra strada e siamo concentrati sul prossimo impegno sul campo del Sant'Agata. Per questa gara il tecnico Nolano dovrà rinunciare oltre a Mautone, Di Fiore e Pipolo, anche all'attaccante Coris. In casa Santa Maria Cilento l'attenzione è rivolta anche alla Coppa Italia e i giallorossi ora conoscono l'avversaria dei sedicesimi. Sarà il Città Nova che ha eliminato il Francavilla. Sarà il sorteggio a stabilire chi giocherà in casa nella gara secca che vale gli ottavi.